Ragazzi oggi vi porto con me nel magazzino qui da Crop perché voglio parlarvi di una cosa un po' particolare 5 prodotti che a distanza di tanti anni mi hanno fatto pentire dell'acquisto Ciao ragazzi benvenuti bentornati qui sul canale oggi un video un po' diverso perché siamo qui nel magazzino non vi farò vedere l'incubo che c'è lì dietro perché voglio parlarvi di 5 prodotti che a distanza di tanti anni e altri un pochino meno a dire il vero che avete anche tra l'altro già visto qui sul canale mi hanno fatto pentire dell'acquisto non sempre tutto è come ce lo immaginiamo non sempre tutto effettivamente diventa realmente funzionale oggi vi voglio dire cosa non lo è stato e la motivazione non vi parlerò del comparto illuminazione in realtà avrei una quantità di prodotti infinita di cui potermi lamentare ma non lo farò perché secondo me l'illuminazione soprattutto quando non si è pro è un discorso un po' delicato perché chiaramente ciascuno compra ciò che si può permettere in quel momento soprattutto alle primi sei anni per cui questo aspetto non lo tratterò minimamente ma voglio partire invece da un aspetto che invece chi ha le prime armi affronta sempre a mio avviso in maniera abbastanza caotica e soprattutto senza ragionamenti giusti ovvero quello delle fotocamere perché il primo prodotto di cui vi voglio parlare è qui dietro ed è lei come vedete dalla tonnellata di polvere che c'è sopra la nikon d7000 questa è stata dopo la d3200 praticamente la prima camera questa è muffa perché è la prima camera che ho acquistato dopo la d3200 appunto perché pensavo di aver bisogno di un upgrade in realtà questa camera è stata un upgrade a metà perché a conti fatti non mi dava chissà quanti in più e in neanche un anno mi ha portato a comprarmi la d7000 che per chi mi segue da tanto tempo sa mi ha accompagnato per veramente tantissimo del mio percorso questa camera secondo me non tanto per la camera in sé è stato un acquisto un po' avventato un po' figlio del ok ho imparato a fare foto decentemente ora voglio qualcosa di più di un entry level secondo me queste camere mid range che in realtà a distanza di ormai 5-6 anni da quando esistevano e venivano utilizzate non esistono praticamente più il mio consiglio se partite con una fotocamera di basso livello nel momento in cui fate l'upgrade passate già a qualcosa di performante molto banalmente il mio obiettivo finale era il full frame con praticamente 200 euro in più avrei comprato la d700 al tempo per avere qualcosa subito già pronto all'uso da utilizzare non ho voluto aspettare in realtà lavorando al tempo in discoteca mi sarebbe bastato aspettare un paio di mesi avrei potuto fare già salto di 3200 di 700 risparmiando sostanzialmente penso 500 euro l'avessi pagata e secondo me col seno del poi è stato un acquisto un po' stupido un po' avventato ragazzi quando volete fare un upgrade delle vostre fotocamere vi raccomando ragionate se serve se ne avete realmente bisogno e comprate qualcosa che faccia veramente da upgrade e non che sia un palliativo alla vostra voglia di utilizzare una nuova fotocamera al di là di quella appunto entry level con cui avete iniziato e sempre parlando di camere il prossimo prodotto che vi voglio mostrare è un prodotto che in realtà ho acquistato l'anno scorso l'ho comprato praticamente sulla scia del trend che si era andato a creare perché volevo provare un prodotto diverso ma che già conoscessi e sto parlando della Fujifilm X100 Original ci tengo a sottolineare una cosa questa camera in realtà per me è stato un pendimento non per la camera in sé ne ho già parlato su un video lo trovate qui in alto e ho espresso quanto mi abbia entusiasmato e quanto effettivamente sia stata interessante e divertente da utilizzare ma col seno del poi dopo aver acquistato la Ricco dopo un po' di tempo questa camera è diventata completamente inutile non l'ho mai più riaccesa è in totale disuso la sto conservando praticamente soltanto come elemento d'arredo e non mi serve più in realtà ed è stata una camera che ho acquistato preso dalla foga di voler avere una compatta e di voler sostanzialmente non dico cavalcare un trend però comunque mettermi in quella scia che si era andata a creare è un prodotto che comunque lo reputo divertente da usare è un prodotto che non può essere paragonato ad esempio ad una Ricco come utilizzo perché la Ricco è molto più performante doveva essere la camera che portavo con me soltanto nelle mie uscite di puro svago alla fine la Ricco completamente divorata e non la utilizzo più quindi in realtà col seno del poi mi sono pentito la fortuna vuole che l'abbia pagata 300 euro per cui una spesa molto molto bassa che mi ha messo nella condizione di non rendermi conto dell'errore sostanzialmente però riguardandola ogni mattina visto che ce l'ho in camera mia a casa mi rendo conto che è fondamentalmente un elemento d'arredo potevo comprare qualcosa di un pochino più carino forse e abbiamo parlato di fotocamere ora vorrei parlare di obiettivi perché ne ho messi ben due di cui uno secondo me nessuno di voi se lo sta immaginando minimamente e soprattutto sono due obiettivi che hanno una natura molto diversa tra di loro uno è un obiettivo entry level un obiettivo veramente forse è l'obiettivo più comune che si compra quando si inizia a far fotografia l'altro è un obiettivo invece estremamente pro io vorrei partire da quest'ultimo e vieni qui ciccio che cerchiamo subito lui il 50 mm G Master questa è già la pezza che ho messo al mio errore inizialmente noi qui in crop avevamo il 50 mm G Master 1.2 che anche questo l'ho già recensito sul mio canale e per chi abbia visto quel video sa perfettamente quanto io reputi questa lente clamorosa il motivo per cui mi sono penito dell'acquisto in realtà non è tanto della qualità in foto che secondo me è fantastica del miglior G Master lato fotografico che c'è in circolazione dal punto di vista proprio della pasta delle immagini ma ci siamo pentiti di averlo comprato perché lato video le sue performance sono veramente molto molto scarse e non ci è piaciuto per niente secondo noi non è adeguato anche per riprese magari piazzate come può essere ad esempio un palato di YouTube soprattutto per quanto riguarda la messa a fuoco che è molto ballerina di conseguenza volendo comunque avere un 50 mm fisso molto luminoso di alta qualità abbiamo semplicemente rivenduto il 50 mm 1.2 e abbiamo virato sull'1.4 che il lato video invece ha delle buone prestazioni quindi in realtà questo è un acquisto sbagliato non tanto per il prodotto in sé che era comunque un prodotto valido che io vi straconsiglio se hai fatto i fotografi ma perché per le nostre esigenze non era adatto a noi ed era diciamo così al 50% giusto perché per me era perfetto ma ovviamente per Simo non era abbastanza di conseguenza abbiamo dovuto un attimino ritrattare per cui mettendo via i 50 mm G Master io voglio parlarvi di un'altra lente che in realtà non c'è più qui perché l'ho venduta grazie a Dio me ne sono liberato alla velocità della luce e per darvi un'idea vi tiro fuori questo in realtà non è questa la lente questo è il 70-200 Sigma che è stupendo ma un teleobiettivo io quando iniziai a fotografare oltre al 18-55 avevo acquistato preso dall'impulso di avere una focale lunga il 70-300 Tamron è quello marcissimo per reflex adesso non ricordo minimamente il diaframma ma lo state vedendo qua da qualche parte in sovraimpressione una lente che ho pagato 100 euro e 100 euro vale è una lente tremenda fa schifo non ci sono altri aggettivi per definirla è una lente secondo me che già dopo le primissime battute del proprio percorso diventa inutile diventa un pezzo di plasticaccia infatti è una lente che non ho mai utilizzato appena avuto l'occasione me ne sono sbarazzato ed è stato un acquisto dettato totalmente dall'impulso dell'avere anche una lente lunga oltre al 18-55 perché quando si inizia si ha sempre questa convinzione che bisogna avere lenti che coprano letteralmente tutte le focali possibili ed inimmaginabili è un grande errore ragazzi anche perché io al tempo facevo paesaggi a me di avere un 70-300 non me ne fregava men che nulla era semplicemente una mia paranoia una mia sega mentale ed è stato un acquisto veramente stupido quando si inizia anche 100 euro possono essere investiti in maniera intelligente molto banalmente avrei potuto acquistare un bel filtro polarizzatore o un bel filtro ND perché al tempo addirittura facevo lunghe esposizioni pensate ragazzi che periodo tremendo della mia vita e invece ho comprato quella lente schifosissima non comprate quel tipo di prodotti io lo dico in maniera molto diretta perché secondo me non sono per niente validi anche per un amatore ci sono già alternative un pochino più interessanti con poco più di budget e quelle lenti kit che vi vengono vendute io mi ricordo al tempo anche se non sbaglio il 70-200 di Canon che veniva venduto sempre in bundle con le 1200D sono prodotti tremendi con una qualità orrida quindi raga risparmiate i soldini e investiteli in qualcosa di realmente utile cosa che non ho fatto quando ho acquistato un altro prodotto che si è rivelato semplicemente una moda del momento una cosa che pensavo avrebbe arricchito la mia fotografia in realtà era semplicemente un trip mentale che mi ero fatto soprattutto in quel periodo in cui stavano iniziando a fiorire e non più ad essere solo uno strumento molto professionale lui, il drone ragazzi io penso che nella carriera di ogni fotografo ci sia il momento drone il momento in cui vedete quelle bellissime foto dall'alto fatte ovviamente illegalmente di Milano, di New York di qualsiasi posto in giro per il mondo e ho detto per forza devo farle anch'io impossibile non farle ho comprato questo il Mavic Mini che anche questo ho recensito sul canale ma non vi linko il video perché fa schifo letteralmente dopo il video non l'ho mai più utilizzato una volta l'ho schiantato come si può vedere da i suoi segni di usura perché non sono in grado di pilotare un drone in maniera sensata e intelligente non sono un dronista quindi se volete fare riprese col drone chiamate un dronista e fate lavorare chi è competente nel proprio settore e questo è stato esattamente un acquisto dettato puramente da aver visto qualcosa che stava nascendo e aver detto lo voglio anch'io perché se non ce l'hai ti manca quella cosa in più non si può fare tutto non sempre tutti devono fare tutto quanto e soprattutto questo tipo di prodotti qui in particolar modo i droni sono prodotti estremamente pericolosi ragazzi da usare non sono prodotti che vanno utilizzati a cuor reggero è molto facile fare dei danni per cui a meno che non vogliate diventare tali a meno che non vogliate fare addirittura il patentino e a meno che la vostra fotografia non si basi tantissimo su questo tipo di fotografia o nel caso del video o in questa tipologia di video per quanto mi riguarda questa è la prima spesa di cui potete risparmiarvi i soldi questo è stato veramente un acquisto stupido che ho utilizzato tre volte e mi ha fatto buttare via tra l'altro non pochi soldi perché mi pare di averlo pagato sui 500 euro al tempo perché costavano ancora un pochino al tempo addirittura avevo anche lo spark proprio perché avevo deciso che devo buttare via i miei soldi nelle peggio cazzate e poi tornando al discorso di prima mi sono comprato la D7000 e non la D700 ragazzi quando si è inesperti si fanno veramente tante cose stupide e questo video vorrebbe essere un tentativo di aiutarvi a evitare di fare scelte stupide nel vostro percorso perché quando si inizia mi rendo conto che il valore dei soldi è veramente molto più alto rispetto a quando si arriva a un livello un po' più avanzato perché ogni centinaio di euro può fare veramente la differenza e costruire fin dalle prime battute un buon corredo fotografico e senza andare a buttare soldi in cose completamente inutili può fare veramente la differenza soprattutto quando dovendo competere piano piano sempre di più col mondo dei grandi col mondo dei pro avere magari anche quelle piccole chicche economiche giuste può aiutarvi effettivamente a riuscire ad avere un flusso di lavoro migliore per cui ragazzi investite in maniera intelligente i vostri soldi nel caso vi interessasse trovare qualche offerta fotografica figa soprattutto in questo periodo natalizio io vi segnalo in descrizione il mio canale telegram in cui vi segnalo ogni tanto qualche offerta qualche chicca in particolar modo un prodotto ad esempio che secondo me incarna perfettamente questa tipologia di filosofia è questo qui il 35 1.8 di Sony una lente secondo me fantastica a livello qualitativo piccola versatile in video funziona da paura e costa 300 euro e in sconto a volte si trova anche a molto meno e addirittura se andate sull'usato perché siete così schillati la pagate veramente nulla questo è il tipo di prodotto che io vi vorrei invitare a trovare per le vostre esigenze perché secondo me questi sono soldi investiti bene tutto quello che vi ho fatto vedere fino ad ora sono soldi invece investiti malissimo in particolar modo quando si parla di lenti di fascia molto alta cercate di capire le vostre esigenze detto questo ragazzi il video è finito io spero che questo video vi sia piaciuto spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto e fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro prodotto di merda che avete comprato e che è stata una vera e propria spesa inutile che vi ha fatto buttare i vostri soldi detto questo se il video vi è piaciuto lasciate un commento e mi piace e noi ci vediamo ogni giovedì alle 19 qui sul canale con nuovi e noi ci vediamo Grazie a tutti.